Taranto ha fatto sentire la sua voce, anche i lavoratori ionici hanno partecipato allo sciopero generale proclamato da CGL Will a livello nazionale per la giornata di venerdì 17 novembre. Il presidio si è svolto in via Anfiteatro sotto la sede della Prefettura, una protesta forte contro la manovra economica del governo Meloni da parte delle categorie del trasporto pubblico, del pubblico impiego, della conoscenza, degli appalti pubblici, dei servizi e delle poste. Noi quello che vogliamo innanzitutto fare è protestare, rigettare una legge di bilancio assolutamente iniqua che non si fa carico della condizione delle persone, le persone che lavorano, le persone che per vivere hanno bisogno di un salario, hanno bisogno della pensione, hanno bisogno di stabilità. Parliamo innanzitutto anche di quelli che sono i diritti di cittadinanza, cioè tutti quei diritti legati alla sanità pubblica, alla scuola pubblica. Questo governo sta semplicemente dimostrando di non avere a cuore questi problemi. È diventato un problema quello dei salari, quello delle pensioni, quello della sanità, curarsi per esempio oramai è un diritto per pochi. È una legge di bilancio che viene fatta in modo scellerato secondo noi. Perché? Perché non vengono trovate quelle risorse che potevano essere ricercate, come per esempio la tassazione degli extra profitti, che avrebbe dato un gettito importante e avrebbe aiutato sicuramente la comunità a risollevarsi da quelle che sono, che è una crisi secondo noi la più grande dal secondo dopoguerra.